Occasione ghiotta che vale doppio, amici del campionato amatori taranto, in primis per la British, la quale pretende di riscuotere il discreto credito che vanta nei confronti della fortuna. E sì, perché gli anglo-tarantini dall'inizio della stagione si ritrovano con l'infermeria affollata e mettere insieme la formazione titolare si sta rivelando in presa molto più che ardua e in secundis per i biancorossi di Automobili Perrone che, galvanizzati dalla scoppia e tante vittorie e danni di Samaflex, vorrebbero proseguire la striscia vincente per accomodarsi al tavolo dei grandi e partecipare così al banchetto. Vediamo dunque come si schierano le due compagini partendo dai padroni di casa della British che affrontano gli avversari con minichini in porta. A difesa del ballo di Adriano troviamo Fabio Palmisano, Gabriele De Giorgio, Gaetano Gaeleandro e Fulvio De Maglie. A centrocampo la cabina di regia è affidata a Cosima Tonino Nicola Palumbo, mentre sulle fasce rispettivamente a destra Simone Del Vecchio e a sinistra Alessandro Frecciarossa Massaro. In attacco la coppia è formata da Alessandro Coppola e Ivan Cannizzaro. Identico lo schema tattico per i Castellanetani di Automobili Perrone che schierano in porta Francesco Marcello. In difesa Antonicelli, Donghian, Nardulli e De Bellis. Centrocampo granitico composto da Francesco Rotolo e Giovanni Casamassima sui binari esterni, mentre a dirigere il traffico troviamo Luca Buttiglione e Vito Pastore. In attacco Mario Assi e Francesco Lioi. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Valerio Lippolis, indiscusso campione del calcio Castellanetano e amico di molti giocatori biancorossi. Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione di Black Pepper Sport. Ora però è arrivato il momento di passare al calcio giocato. Partono lancia in resta i biancorossi che spaventano Minichini con una bella iniziativa personale di Mario Assi che dal limite dell'area costringe l'estremo anglo tarantino alla deviazione in corner. La pronta risposta dei padroni di casa vede Nicola Palumbo scaricare una stafilata dalla distanza che si accomoda sul fondo lambendo il palo alla sinistra di Marcello che controlla. British ancora pericolosa al decimo minuto con questa incursione di Coppola che viene lanciato in profondità sulla fascia destra. La lotta all'ultimo sangue con Nardulli che poi capitola lasciando al numero 11 anglo tarantino la facoltà di indirizzare l'assist a Cannizzaro per la conclusione di prima intenzione ma Francesco Marcello ci mette la manona santa deviando in calcio d'angolo. Il corner conseguente genera scompiglio nell'area Castella Netana con una serie di batti e ribatti la palla arriva poi bella fresca sui piedi di Palmisano che si mangia un gol praticamente fatto della serie e questo lo faceva anche Messi. Se la lega il dito Mario Assi che tutto da solo provoca una serie di infarti nella difesa avversaria alla fine riesce a trovare un barco per servire una palla dorata a casa massima che però sbatte contro Minichini che chiude il portone a doppia mandata. Rimessa a laterale per Automobili Perrone duello rusticano tra Palmisano e casa massima con quest'ultimo che riesce a dimincolarsi e servire al centro dove c'è il colpo di testa arremmante di Rotolo che mette i brividi a Minichini. Assi riceve palla su rimessa laterale il filtrante per casa massima che si porta sul fondo per servire al centro ma i colleghi di reparto erano tutti in pausa a caffè. E con le immagini passiamo la ripresa con una bellissima combinazione sul filo del fallo laterale tra Antoni Cieli e Rotolo il numero 44 bianco-rosso smista poi al centro per gli OE che a sua volta serve in avanti per Assi la sponde per casa massima che abbassa il coefficiente dell'azione con un tiro telefonato facile facile per Minichini bene ma non benissimo. Francesco Massaro si libera di due avversari prima di servire a Tolino che di prima intenzione lancia in profondità per Coppola che però viene anticipato dall'uscita kamikaze di Marcello. L'equilibrio della partita viene sconvolto al 14esimo minuto all'orquando su un traversone in avanti di casa massima non scatta la trappola del fuorigioco della difesa anglo-tarantina permettendo così a Mario Assi di presentarsi da solo al cospetto di Minichini il quale in un primo momento riesce ad opporsi all'attaccante bianco-rosso ma nulla può sul tocco successivo dello stesso che si insacca impietoso in fondo alla rete. Lo svantaggio destabilizza per un attimo i giocatori della British che rischiano di subire il raddoppio due minuti più tardi facendosi sfuggire Assi che danza sul filo del fuorigioco. Il suo cross al centro è per la testa di Lioi che colpisce a botta sicura ma Minichini respinge in due tempi guadagnandosi così un busto in bronzo nella sede sociale. Su una ribattuta della difesa ospite Attolino tenta la bomba dalla distanza il suo tiro però è facile preda di Marcello. C'è il tempo per un ultimo assalto della British al fortino avversario portato da Francesco Massaro che si incune in area di prepotenza lotta come un leone in mezzo ad un nugolo di avversari per poi tirare in porta Marcello salva tutti abbrancando a terra la sfera. Vince dunque Automobili Perrone che con un'altra prestigiosa vittoria continua la sua striscia più che positiva. La testa della classifica è lì ben visibile e a portata di mano perciò calma e gesso. Il non facile momento della British purtroppo continua restano comunque la certezza di aver tenuto il campo alla grande contro degli avversari di grossa caratura e la speranza di poter affrontare prima o poi il futuro con i raghi al completo. Da state è tutto non abbandonateci eh!